Ciao a tutti ragazzi, bentornati con questa nuova live di Alti di Settro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, sto parlando un attimo, sto giocando il mio fratello, stava... Ah, sto parlando un attimo, sto parlando un attimo. Ah, sto parlando un attimo. Sto parlando un attimo, sto parlando un attimo. 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 a me mi piace nutella gelato e gabbana questo è più bello dove stai oh siamo vicini ti sento no 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 togli tu la musica al massimo nel mio sito se guarda la nave allora se vanno a guardare non abbiamo uno spettatore ciao oh benvenuto chissà che non è io chi è tu non è io ma io ma poi lo rivedono quella che possono vedere il video e scegliere cose allora che spazio che sono il video no perché non solitare beh li faccio sì solitare più o meno però li faccio ma è più bello dai per adesso ho capo ho capito un gioco 106 Sì, che riscattato! Sì, riscattato! Sì! Devi aspettare! Stai allontanato il mare! Vai! come non c'è tutto il quattro no guarda quanta vita ciao ciao troppo pro ma io non lo leggo anche se sono di live non so c'ho youtube acceso c'ho musica accesa e poi sto guardando e la mia famiglia no io in live che è già tanto ma parlo in live cioè due persone e vabbè io live che è poi su due telefoni uno guarda la live e l'altro assolto musica c'ho che zella che guarda la quindi in realtà sono in due da te io più live in due che c'è stato due? sì tre più te sono due che è due settecento no no non puoi essere sopra che vuole essere sopra che vuole essere sopra ok ok cazzo devo arrivare più vicino sono morta io Non c'è manco legno Vabbè Questa canzone è troppo bella per me Sì Eh infatti Sto a parte mi piacciono Noo Come? Non metto tutta Vabbè Esatto Esatto Dica te era proprio in testa 12 12 13 Già Tu c'hai pesci? Io non c'è Io non c'è Io non c'è l'ho Vabbè Ti ho toccato che ho tre pesci e qualcosa Come sono? Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Se sei morto Ciao Laura Eh tra pesci più falò, vabbè, meglio un pesce cosa? tu cosa hai? i pesci bastano zero per cosa? tra pesci e 5 falò qualcos'altro? tu non hai più pesci mancavano i pesci i flopper e i medici eh fatti vabbè ti vedo che tu vabbè però da un livello 12 per aver giocato creativo wow da un livello di giocato creativo si ma io sono io ero alla metà di 14 infatti io ho almeno il pass se non ci avessi non non mi fregava anche io ho due connessioni quindi dovrei pagare tutti connessioni due connessioni? sì come impossibile? come hai due? sì sì c'ho eh una è nuova qua e l'altra è... sì nooo guarda mi ha costruito bene stai vedendo? stai vedendo? l'hai visto? vai indietro però eh ce lo puoi indietro non c'è non c'è il pompa eh ho visto non c'è il pompa però oh c'aveva uno specchio c'è tutto due specchio due due oh dio ora si c'è altro come se non è il pompa qua che sei sfuggato? si hai spiegato tutte i pistole ma io sto facendo giù solo per la vita perchè poi... vabbè va bene io per quanto Anche io eh? Eh l'hai visto molto appena È una milaglia Sì non sei che l'ho morto Eh eh Ah ok Buona papà Mamma mia Allora ci hai tirato una roba Non abbiamo mai fatto Scusate che vede che chiede Sì non sto scherzando dai Ametro Sei il king dei cecchini Con le fetterine Sono sfigato Che è il nabo della madonna Mi ha tornato tutto a te Eh Il team aura era Uh che culo non mi hai bricato Come hai fatto non lo so Ma hai di poco però In realtà perché hai il bug Ah per me Sto facendo un po' di spamme alle due con l'augo No con l'augo beh Spamme alle due Ci sta Sì ciao Lore Dopo le mani A presto No con l'augo Allora tutto bene Tranne grazie a te Oh 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 Buona pace Travi grazie a te Sì Sì Oh 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 io sono scarsa e lui è forte raga ok no 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 non andai a contrari dati o uno spettro sei tu ma perché mi hai detto non c'è ancora ma non si toglie non c'è ancora chi c'è scriva ah adesso si è chiuso è rotto è rotto che vediamo che vediamo che vediamo cos'era? non lo so chi è che stava parlando? non so guardalo, guarda alla fine alla fine, troppo bella guardalo, 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 guardalo tu hai lasciato io? non vi faccio questo anche? Sta scoperto è un pochettino un pochettino, sì, un pochettino, sì, va sei tu, non aspetta? no perché c'è un ospettatore? se sbaglio anche per scroccare un attore non so scroccare scroccare cosa fanno le persone all'oratore per scrocare, capisci? oh, 40 di pingo no, no 30 102 e io ripetete qua con le armi ma la mia, sicuro che non è la mia assistita sicuro che non è la mia è la 50 per 100 è abbassata, ecco perché faccio l'ospettatore sì vabbè cazzo giro che hai detto molto forte da me sai questa? lo sai? bello bello Anabella sta su prima una bella ma che vola! ma che vola? ma che vola? ma non ci sono e non ci sono ma non ci sono ma non ci sono che? non è grande E' un'altra parte, vieni a te la scuola E' un'altra parte, vieni a te la scuola E' un'altra parte, vieni a te la scuola No Vieni Vinci te Oh, io con il fallo, con il fallo perché l'ho finito ti muto ciao mutiamo l'abbiamo mutato grazie è il 50% adesso grazie 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 c'è che non piace oh c'è un ospedatore che bello tu sei tu bravo vediamo se scrive guarda se non scrive è il 50% io che bello tu sei tu sono scappata guarda 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 chi ha sparato? chi ha sparato? no, no ma vai vedere se ci rende troppo il volume non ho capito ci senta il volume della musica ah no, 0 aspect va bene grazie grazie mille per il 0 aspect ragazzi che palla come le tre no, russo domani le tre mezza ho russone oh sì sarò col pop tu non c'hai nel pulso io c'ho nel pulso splash no anch'io ho la tua stessa cosa ragione sì, proprio bb il tattocento se sta a zottare di pig dove sei? guarda il creme di sabbia guarda il creme di sabbia ferma che è capitato con i pig non mi salta neanche non mi salta neanche ma non mi salta neanche non mi salta neanche ma non mi salta neanche ma non mi salta neanche guarda il mere quando non si accede di cui perchè rutti mi ricordo quando si trarò da pc che da computer 3.000 dp 3d fps 3d fps 3d fps come 3.000 dp impossibile se no ma tu da ps4 non è che non hai 3.000 non c'è niente vabbè ho buttato scusa non fare 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 non l'ho fatto apposta dai non lo sai no dove sei è rimasto è rimasto è rimasto ciao ah ciao vabbè devo giocare la futura no 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 si 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 no si e no vabbè allora giocavallo con i miei spettatori 0 chi vuole giocare raga anche se no 0 dai entri qualcuno porca puttana chi vuole giocare raga è scritto di gabbio box uno spetto yeah chi riscrive però si uno spetto ma io giocavallo con uno spetto dai tu puoi venire la stessita no io c'è faccio faccio poi andiamo intorno al centro al centro al centro torna al lobby ma io tu al centro l'ho fatta a posto vabbè rispetto se vuole giocare con altri infatti scrivi prova e dirle però più di parola ma bella ecco fra aiuto chi like aveva scritto oh è vero ma il carico fra ma noi scriviamo i ricambi fra noi scriviamo ma chi è che mi ha messo i dislike ma perché a me non mi arrivano chi è che ti ha messo i dislike uno tu no vabbè voglio mangiare raga grazie a tutti 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 . . . . . . . . . Porca miseria, porca miseria, guarda, cosa mangi? Adesso leggero a tutti Andiamo al centro Buona vita Un'ositogramma, noi scriviamo Lo sa, te l'ho detto io perché saranno a terra col genere Ma non mi è arrivato di che Minchia, dopo un'ora è andato Un'altra parte del video Una live